L'amicizia tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente francese Emmanuel Macron è finita da un pezzo. Lo si è notato anche alle commemorazioni per la fine della Prima Guerra Mondiale, domenica scorsa, quando Macron ha parlato ai leader di tutto il mondo per respingere il nazionalismo, definendolo un tradimento del patriottismo, parole pronunciate mentre il corrucciato Trump, l'uomo dell'America First, era seduto lì vicino. E nel giro di poche ore Trump si è scatenato lanciando una raffica di tweet di fuoco contro Macron. Il problema è che Emmanuel sconta un gradimento molto basso in Francia, del 26%, e un tasso di disoccupazione di quasi il 10%, stava solo cercando di cambiare argomento. Fai la Francia di nuovo grande, aggiunge Trump, parodiando un suo celebre motto. Trump non è stato molto entusiasta neppure della proposta di Macron di creare un esercito europeo, visto che il presidente francese ha fatto riferimento alla protezione della Francia per quanto riguarda la Cina, la Russia e persino gli Stati Uniti. Emmanuel Macron suggerisce di costruire il proprio esercito per proteggere l'Europa dagli Stati Uniti, dalla Cina e dalla Russia, ma è stata la Germania nella prima e nella seconda guerra mondiale. Com'è andata a finire con la Francia? La reazione nella città francese di Leone e i tweet di Trump è in gran parte sprezzante. I francesi sono stanchi di tutti i tweet di Donald Trump contro di noi e contro tutti gli altri nel mondo, quindi non è importante leggerli e ascoltarli tutti i giorni. Le parole sono un po' fuori luogo oggi alla luce dell'attuale conferenza sulla pace. Trump non deve dare lezioni a tedeschi e francesi su quello che è accaduto in passato. Penso che sia un miracolo che abbiamo avuto la pace per così tanto tempo e questo è il miracolo europeo.